Buongiorno e buon 3 dicembre, mamma mia siamo già a dicembre, comunque il tempo è volato, anche se quest'anno è stato un anno da dimenticare, però è volato Oggi vado a lavoro, quindi riuscirò a registrare un poco, anche perché mi hanno chiesto di andare un attimo prima, quindi avrò meno ore per registrare, però cerco di fare qualcosina Mi è arrivata una mail da Amazon, c'è un pacco in consegna per oggi, quindi spero che arrivi prima che io parta per andare a lavorare Ho ordinato le lucine che voglio mettere sul balcone, perché quest'anno ci siamo dati alla pazza gioia e abbiamo deciso di illuminare ancora di più l'esterno della casa Normalmente mettevamo soltanto un filo di luci, a volte attorno alla trave che abbiamo proprio qui dove c'è la cucina, sotto il portico Mentre, e basta, è la renna, mentre quest'anno abbiamo deciso di mettere le lucine anche sul finestrone della sera da pranzo, stanno benissimo E voglio illuminare anche il balcone, quindi la parte dietro della casa, visto che resta comunque sempre molto molto buia A Natale ci sta a mettere un pochettino di luci, poi le lucine a me piacciono molto e quindi le ho prese, se faccio in tempo le vado a mettere, altrimenti le metterò domani nel pomeriggio La televisione è ancora qui, se tutto va bene, forse domani mio papà viene così ce la può fissare alla parete, così almeno portiamo giù anche quella che abbiamo adesso E la taverna piano piano prende sempre più forma È abbastanza tardi stamattina perché tra una cosa e l'altra non sono ancora riuscita a registrare Sono le undici e mezza, quindi ho davvero poche ore perché alle due devo partire Ho poche ore per registrare, oggi cosa voglio fare? Voglio andare a addobbare anche il mobile che abbiamo su dove c'è la televisione vicino all'albero di Natale Solitamente metto sempre qualcosina, quest'anno ancora non l'ho fatto Quindi adesso facciamo quello E volevo aspettare a fare il mobiletto qui, visto che se domani mio papà viene e ci mette la televisione Non abbiamo ovviamente necessità di sgomberare il mobile per poter installare la tv nuova E quindi non volevo andare a mettere mano con gli addobbi di Natale Volevo aspettare insomma di avere la tv nuova posizionata e poi procedere anche con quello Quindi andiamo sul soppalco e addobbiamo anche se non so bene cosa mettere Devo guardare perché ho un po' di cosine, alcune nuove, alcune che ho dagli anni precedenti E facciamo un po' di prove come sempre E facciamo un po' di cose E facciamo un po' di cose E facciamo un po' di cose Vi faccio vedere alla fine come ho addobbato questo mobile e devo dire che mi piace molto il risultato finale Allora qui ho lasciato sempre la solita piantina perché mi piace come ci sta Perché va un po' a cammuffare il filo visto che salendo le scale comunque si vede subito Ho messo questa decorazione Ho messo questa decorazione, l'ho semplicemente appoggiata Anche perché non saprei dove appenderla, dove fissarla alla parete Quindi l'ho semplicemente appoggiata qui Davanti ho riciclato nuovamente questo vassoietto che di solito utilizzo per l'autunno Ho messo un po' di palline di Natale e poi ho messo queste statuine che vi avevo fatto vedere insieme alla scritta Trovo che stia benissimo nel complesso Mentre da quest'altra parte sono andata a togliere il poster che di solito teniamo per nascondere i fili Però non mi piaceva l'idea che i fili si vedessero Quindi cosa ho fatto? Ho preso queste lucine che hanno anche tipo queste piume Le ho messe proprio sopra il filo così da camuffare un po' l'effetto Insomma camuffare i fili E questo è il risultato Mi piace anche perché è vicino all'albero di Natale quindi c'è una bella continuità Poi ho messo questa renna che riprende le luci E come vedete sono stata su decorazioni in legno Ho messo anche questo cartello Che in realtà è mostrato molto bene anche in giardino Però in giardino mi si rovina Quindi ho deciso di lasciarlo in casa come lo scorso anno Questo l'avevo preso da Maison du Monde E poi ho messo lui questo gnomo che trovo bellissimo Guardate quanto è carino L'ho appoggiato semplicemente qui Mi piace molto perché i colori si riprendono tutti Abbiamo del marrone, il beige, il colore legno E anche il diffusore come tonalità insomma di colore del barattolino in vetro Ci sta proprio, proprio bene Se fosse stato rosso topo Però di rosso non ho nulla E quindi ho messo questo qui Sono proprio soddisfatta del risultato Questo angolino mi piace molto Di solito lo gnomo lo mettevamo sulla scala in vetro Quest'anno invece mi piace qui quindi lo lascio lì Mentre qui invece non ho messo niente di Natalizio Ci sono le solite cose Adesso preparo il pranzo perché alla fine si è fatto Saranno 12 e mezza Mi ha chiamato anche il veterinario Non è niente, meno male Sono trovato delle piccole cellule ma che non sono maligne Insomma non è niente Bisogna lasciare stare E poi piano piano andrà via la pallina Diciamo che sia creata Magari non verrà via del tutto Mi ha detto E se voglio fargliela rimuovere Si può fare Però è solo una cosa prettamente estetica Mi ha detto comunque di aspettare Ci vorrà qualche mese Io non penso di farglielo fare Perché sinceramente farla addormentare Fargli fare un intervento chirurgico a tutti gli effetti Soltanto per togliere una sorta di piccolo brufoletto Che ha sulla guancetta Che neanche si vede Sinceramente mi dispiace Quindi non penso Se mai dovesse restare Non penso che glielo farò togliere Anche perché mi dispiace Cioè quando li porto dal veterinario Le devo lasciare là È sempre un colpo Cioè mi dispiace proprio tanto Quindi visto che non è niente Non è necessario toglierlo Se proprio resta qualcosina Fa niente Si terrà questo brufoletto Tanto anche noi molto spesso vengono Io lo chiamo brufoletto Perché alla fine è sempre un brufoletto Però è una piccola Un piccolo rigonfiamento sotto pelle Leggermente arrossato però Niente di che Quindi meno male Mi sono tolta diciamo un peso Perché si sa mai Si sa mai Bisogna Io spero sempre per il meglio Però insomma Si sa mai Invece anche questa volta È andato tutto bene Adesso preparo il pranzo Perché altrimenti Non riesco a A mangiare in tempo Perché poi devo andare a lavoro Non ho voglia Oggi non ho proprio voglia Ho finito di mangiare Ho anche passato L'aspirapolvere L'ho messo un attimo qui Perché c'era il pavimento Sporco Proprio sporco Ho passato anche C'era anche avuto il pavimento È arrivato un corriere Mi ha portato un nuovo pacco Questa volta arriva da Pixi Però Ormai la routine Prevede di aprire I pacchi La sera Davanti all'albero di Natale Quindi stasera Quando torno a casa Da lavoro Lo apriamo E vediamo Cosa Mi hanno mandato Mi piace l'idea di Spacchettare i pacchi La sera Come se fosse Un calendario dell'avvento Anche se Non ricevo pacchi Tutti i giorni Quindi Ci saranno dei giorni Che non avrò niente Da aprire Sono Ero qui un attimo Davanti alla stufa Con le cagnoline Stavo giocando un attimino Con loro Guardate qui C'è mocha Si mettono sempre Qui per scaldarsi Mentre Gioia invece Sta guardando fuori Dalla finestra Perché ho sollevato Leggermente la tenda E quando alzo la tenda Lei puntualmente Si mette alla finestra A guardare i passanti A guardare A guardare fuori Perché la nostra È una tenda Filtrante Quindi entra la luce Però noi da dentro Non vediamo fuori Quindi se vogliamo Vedere fuori Dobbiamo leggermente Alzare la tenda Anche se in realtà Non mi interessa Guardare fuori dalla finestra Posso benissimo farlo Da quella della cucina Però alle cagnoline Piace Quindi ogni tanto La L'alziamo Adesso mi preparo Un nocciolino Poi mi cambio Io che vado a lavoro Le lucine Per il balcone Non sono ancora Arrivate Quindi ormai Le metterò domani E noi ci vediamo Stasera Gioia Cosa fai sotto il tavolo Con il tuo pupazzetto Ciao Cosa fai lì? Ti stai scaldando La schiena? Rieccomi Alla fine Ieri sera Non ho più Continuato il vlog Quindi non l'ho chiuso Per questo motivo Questo sarà un vlogmas Contenente due giorni Ve l'avevo già anticipato Forse nel primo vlogmas Che ho registrato Che potevano capitare Video di questo tipo Infatti È già successo Ieri sera Sono arrivata a casa Tipo alla Ho finito di lavorare A otto e mezzo Sono arrivata per le nove Abbiamo celato Poi ero proprio distrutta Perché abbiamo Allestito tutto il negozio Per il Natale E ero proprio K.O Mi sono fatta una doccia Poi mi sono messa al computer Ho guardato qualche video Su YouTube Poi abbiamo guardato Una puntatina su Netflix E quindi non ho più chiuso Il vlog Lo riprendo oggi È venerdì pomeriggio Stamattina ho lavorato Tra l'altro Con il nuovo decreto Anche Cioè continuiamo a restare chiusi Nei weekend Quindi domani E domenica Non andrò a lavorare Lavorando appunto In un centro commerciale E lunedì e martedì Starò comunque a casa Perché martedì È un festivo E anche i prefestivi I centri commerciali Non possono aprire Quindi farò quattro giorni Ancora di pausa Almeno riesco a registrare Tanti tanti video Comunque sono arrivata a casa Ho mangiato Piove tantissimo Tra l'altro oggi Fa freddissimo Ieri mentre ero lavoro È arrivato anche Il pacchettino di Amazon Che aspettavo Qui ci sono le lucine Che voglio mettere Sul balcone In realtà come vi ho detto Piova e fa freddissimo Però le voglio mettere Quindi vediamo Se riesco a metterle Con questo freddo E con la pioggia In realtà sono al coperto Perché sopra il balcone Abbiamo Il tetto Che copre Dovrebbe coprire il balcone Sono quasi sicura Però la pioggia Vedo che sta Piovendo Lateralmente Quindi magari Mi bagno Ugualmente Vedo se riesco Altrimenti Lo farò domani Però ci voglio provare Prima però Le apriamo così Vediamo come Come sono Vedo come sono Anche perché ho preso Le Delle lucine Che vanno con le batterie Perché sul balcone Non abbiamo nessuna Presa della Della corrente Quindi Non ho modo Di collegarle E allora ho deciso Di prendere La versione Con le batterie Apriamo Sono Due Fili Queste in realtà Non sono Delle lucine Tradizionali Infatti Le ho anche pagate Poco Perché hanno Il filo Trasparente E sono Quelle Proprio Quelle più sottili Più leggerine Che volendo Si possono utilizzare Anche Per mettere Non so Mi viene in mente La ringhiera Della scala Dove anche in quel caso Non c'è Di solito La possibilità Di avere La corrente A portata di mano E quindi Vengono comode Queste con Le batterie Sono due Non mi ricordavo Di questa cosa Probabilmente Me ne basta Anche Uno Però proviamo Ho fatto Una bella scorta Anche Per quanto riguarda Le batterie Anche perché Mi servono Anche per Per il computer Sia per la tastiera Che per il mouse Quelli della apple Vanno con Con le batterie Quindi Le avevo finite E mi servivano Assolutamente E ho fatto Un po' di scoccia Eccole qui Sono a luce calda Anche in questo caso Si possono Se non ricordo male Si poteva scegliere Tra luce calda E luce bianca Se ritrovo Il link Ve lo metto Qui in descrizione Così Se vi può Interessare Anche voi Le potete trovare Facilmente Ottimo Vanno anche queste Ovviamente Questo modello Non ha la possibilità Di impostare Il tipo di luce Quindi resta Sempre fissa In questo modo Ma comunque Sono carine Ugualmente Luci pronte Mi metto Il cappotto E gli agri Perché altrimenti Mi gelo E andiamo a mettere Le lucine Speriamo Che ci stiano bene Luci Messe Alla fine Ne ho messo Soltanto un filo Sul balcone Principale Che abbiamo Perché in realtà Ne abbiamo Tre Uno O meglio Sul balcone Sulla ringhiera Non è che abbiamo Tre balconi Forse non mi sono Spiegata bene No Abbiamo un balcone E abbiamo Tre ringhiere Una Nostra Una Di I miei Cugnati E una Diciamo Al centro Che divide Le due case Quindi metà Dalla Nostra parte Metà E dalla loro Parte Quindi Non ci arrivava Il filo Non sono riuscite A fare Anche L'altra Parte So che c'è Un'altra Un'altra Un altro set Di lucine Però diventa Troppo Per fare Quel pezzo Di balcone Che abbiamo Quindi stavo Pensando Di utilizzarle Qui in casa Sulla ringhiera Quella Qui sopra Proprio Sopra Di me Dove c'è Il sopparco Quindi dietro Al divano Secondo me Ci sta molto Bene Adesso Mi tolgo Il cappotto Perché sono entrata Ho le mani Ghiacciate Ho preso davvero Un sacco Di freddo Però alla fine Sono super soddisfatta Le ho già lasciate accese Sono le quattro e mezzo E sono già accese Stasera Quando poi C'è proprio buio Vi faccio vedere L'effetto Perché sarà Sicuramente Più bello E' arrivato Il momento Della cina Abbiamo preparato Patate In padella In realtà Le facciamo sempre In padella Anche se sembrano Patate al forno Poi Io mi sono fatta Al forno I gamberoni Sono buonissimi Sono semplicemente Stati Cotti Con un filo D'olio Ho messo Un po' Di aglio In granuli E poi sopra Ho messo Un po' Di pane Pane grattugiato E stay Invece Hamburger Perché non mangia I gamberoni Guardate comunque Anche il suo Che bel piattino Buon appetito Abbiamo finito di mangiare Sono qui sul suo palco Con le cagnoline Che stanno giocando Come delle matte Sul divano E io ne approfitto Per aprire Il pacco di pixie Stasera Casellina Numero 4 Perché oggi È il 4 dicembre Guardate un po' Qua che meraviglia Innanzitutto Questa shopper È meravigliosa E dopo la metto Sotto l'albero di Natale Perché mi piace Proprio tanto E all'interno Ci sono due Cofanetti natalizi Ottimi Come idee E regalo Partiamo da questo Guardate quanto È carino Abbiamo all'interno Un Detergente Per il viso Il glow tonic E una maschera Fanno tutte e tre Parte della linea Illuminante Quindi Della linea glow Tra l'altro È bellissima Anche la pochettina Tutta trasparente Però non è finita Qui perché poi Ci sono anche Delle salviettine Che non ho mai provato Queste sono Delle Salviette Esfolianti Detergenti Trovo questo kit Davvero carinissimo E poi I prodotti Sono proprio In mini mini taglia Guardate quanto è carino Questo glow tonic Così piccolino Quanto Sono piccolini Alla fine è una sorta Diciamo Non proprio di campioncino Perché comunque È una mini taglia Però potete In questo modo Avere la possibilità Di provare Dei prodotti Di pixie Senza necessariamente Prendere La full size E poi C'è questo Cofanetto Con all'interno Tre tonici C'è il tonico Al latte Il glow tonic Anche in questo caso E il tonico Al retinolo Io questi Li ho provati Tutti e tre Li ho nella versione Classica E anche in quella Gigante Nel frattempo Moka Sta scorrendo Come una matta E apriamo Sono curiosa Tra l'altro La confezione Bellissima Perché ci sono Tutti questi glitter Ed eccoli qua Sono proprio piccoli Ma perfetti Anche da portare In viaggio La trovo davvero Un'ottima Ottima idea Regalo Sia questo Cofanetto Che questo Che alla fine Ho anche Svuotato Pixie Me Omaggio sempre Di tantissimi prodotti E sono davvero Uno più valido Dell'altro Mi sono sempre Trovata benissimo Detto questo Direi di chiudere Qui il video Anche perché sono Parecchio distrutta Voglio farmi una bella doccia Mettermi il pigiama E totale relax Anche se domani Mattina possiamo dormire Perché appunto Non andrò a lavoro È sabato Quindi anche se Non lavora E possiamo Prendercela Un attimino Più comoda Io spero che questo Vlogmas Diviso in due giorni Vi sia stato di compagnia Io spero tanto Di sì Se è così Se è stato così Mettete un pollice in su E iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Un bacione E a presto